Leonardo Silva Revisoree Andrea Pellegrini Revisoree Buongiorno, abbiamo pochissimo tempo, io vi parlerò di creatività partendo da un video. È vero che ne abbiamo avuta fin troppa in questi giorni, ma questo serve a far capire che cosa? Che la creatività sono scintille. Sono momenti particolari nella vita di tutti noi che in qualche modo cambiano la direzione alle cose. Cambiano i percorsi, cambiano il modo di vivere, lo stile, i modi di consumare, i modi di acquisto. Io faccio il manager, quindi come voi potete immaginare, traffico e maneggio numeri dalla mattina alla sera. E spesso molti dicono, ma non ti annoia, i numeri in fondo sono noiosi, non c'è nulla di creativo, niente di più sbagliato. La realtà è che i numeri non appaiono da soli nei PowerPoint o nei file Excel, ma dietro i numeri ci sono i pensieri, perché altrimenti i numeri non si realizzano. Ecco perché voglio raccontarvi tre momenti che secondo me, che in qualche modo hanno anche influenzato me stesso nel mio percorso, nella mia carriera, tre momenti in cui queste scintille hanno cambiato, un po' hanno deviato il percorso della storia. Cose leggere, non vi parlerò di cose particolarmente, come dire, pesanti, ma aspetti che in qualche modo tutti noi abbiamo poi subito nel nostro modo di vivere quotidiano. Questo è quello che viene chiamato il miracolo di Bern, 1954, mondiale di calcio, quindi immagino che molti di voi saranno appassionati di calcio. La realtà è che il miracolo da dove arriva? Arriva dall'inaspettato, perché dietro questo inaspettato c'è una scintilla. Voi, molti di voi immaginano, soprattutto, insomma, chi, soprattutto più vicino alla parte tedesca, conoscerà Adidas. Adidas è nata in questo paesino microscopico, in mezzo alla Baviera, di nome Erzogenaurach. Spero di averlo pronunciato bene, perché ci ho messo tre anni. Dopo dodici anni che lavoravo in azienda, ho detto, ce l'hai fatta anche tu, ce l'ho fatta anche io. In questo paesino la cosa straordinaria è che non c'è solo Adidas, c'è anche la Puma, come tutti sapete. Due fratelli che, come tutte le normali famiglie, litigano e si dividono. Cosa succede però in quel momento particolare storico? Che la nazionale tedesca va da Rudolf Dassler e gli dice «Ehi Rudolf, sponsorizza la nazionale, noi parteciperemo ai mondiali». E Rudolf, che ci aveva visto lungo, gli disse «No, io non pagherò mai nessuno per indossare i miei prodotti». La nazionale tedesca va dal fratello Adolf Dassler e dice «Ehi Adolf, visto che tuo fratello non vuole ed è stato lungimirante, vuoi sponsorizzare tu la nazionale?» «Sì, ha una condizione, che io venga in panchina con voi e seguo la squadra». Perché questo? Perché lui, grazie a quel momento storico, ha capito che per poter giocare bene a calcio ci vogliono delle scarpe che non scivolino. Quella, guarda caso, è stata una delle edizioni più piovose dei mondiali della storia. Ebbene, per farla breve, grazie a quell'ingegno, a quel momento storico in cui lui ha interpretato, lì, nel momento in cui i giocatori giocavano i mondiali, inventò i tacchetti abitabili delle scarpe. E grazie a questo la Germania vinse, anche grazie a questo, la Germania vinse i mondiali contro l'Ungheria, che fino a quel momento era stata la squadra più forte. Vedete come a volte l'ingegno arriva dalla necessità. Pioveva e lui si è inventato i tacchetti rimovibili. In realtà, poi, la storia è piena di momenti di grande creatività. Forse quasi nessuno riconosce l'uomo che è qui in questa foto, o forse sì. Quest'uomo qui non è Guglielmo Marconi, ma è Nikola Tesla. Per tutti noi Tesla è l'auto. In realtà, a lui non c'entra nulla con le auto, ma è stato l'inventore, lo scopritore della corrente alternata. E non solo, ma anche delle onde radio. Perché poi la storia ha riassegnato la scoperta a lui e non a Marconi. Ahimè, per noi italiani, ma questo è il fatto. Ma che cosa ha stimolato, al di là del suo genio, che cosa ha veramente stimolato la creatività? In quel momento storico, quindi parliamo della seconda rivoluzione industriale, tutti noi a scuola studiamo la prima, ma ci dimentichiamo della seconda. Ciò che ha stimolato quella scintilla di creatività è stato il periodo, il momento storico in cui erano cambiati gli schemi mentali geografici delle persone. Non è la mia, credetemi, ma è veramente questo il punto. Gli schemi mentali geografici. Le persone volevano comunicare di più e velocemente e volevano spostarsi di più e molto più velocemente. La condizione intorno, la spinta propositiva al cambiamento ha creato questa scintilla di innovazione. La realtà è che poi oggi qualcun altro lo ha preso, ha pensato all'idea e ha poi sviluppato un concetto che non ha nulla a che vedere colui, non ha nulla a che vedere, ma prende solo spunto dal suo nome. Ma vedete come a volte la creatività, in qualche modo, mantiene la sua continuità nel tempo. Il secondo momento di creatività che mi piace raccontare è un po' più vicino. A me, forse, è un po' più vicino anche a voi. Quando i confini definiti delle cose non sono più poi così definiti, è lì che nasce la contaminazione. È un termine che io adoro, onestamente. Perché parlo di contaminazione? Perché la contaminazione è esattamente quello in cui tutti noi oggi più o meno ci facciamo un po' i conti. Siamo contaminati culturalmente, siamo contaminati geograficamente, siamo contaminati socialmente. Provate a immaginare, parliamo degli anni Ottanta, quindi facciamo un salto temporale avanti, parliamo della metà degli anni Ottanta in cui i brand facevano i brand, la musica faceva la musica, il design faceva il design. Arriva un momento storico in cui, invece, la contaminazione crea tanto fervore, tanta eccitazione di creatività. Ecco perché mi piace pensare che lo sport possa, in qualche modo, avere influenzato anche gli stili di vita, non solo per gli atleti, ma soprattutto nel mondo dell'Heinstein. Per la prima volta nella storia, forse voi questo magari non lo sapete o forse non lo ricordate, ma se oggi le sneaker sono fra i fenomeni più importanti nel mondo dell'abbigliamento e quindi dell'industria dell'abbigliamento, delle scarpe, sono diventati così centrali è perché qualcuno, circa 40 anni fa, 30 anni fa, decise di contaminare due mondi che fino a quel momento erano completamente divisi, il mondo dello sport e un quello della musica. La risultante è stata una sneaker, che è quella che indosso io, che ancora oggi anche Marilena indossa. Grazie a Marilena ti mando un super bacio, perché se lei ancora indossa quella scarpa è grazie al genio di qualcuno che in quel momento capì e interpretò che certi momenti, certi mondi andavano contaminati. Spesso la contaminazione viene vista insomma come un qualcosa di oddio, sono impaurito, cosa succede? Esco dalla mia area di comfort. La realtà è che il business è fatto anche di queste cose, di innovazione, di spingersi oltre, di capire che in un certo periodo storico qualcosa va cambiato. E quella scintilla può davvero fare il successo di un business planetario. Immaginatevi Jordan, giusto per essere così, per essere un po' super partes, mi fa un po' male, devo dire, adesso mi usciranno anche delle bolle. E la realtà è che lo stesso fenomeno è accaduto anche con il caso di Jordan. Oggi è un'icona di lifestyle assoluto, nasce dallo sport. La scintilla è stata quella di capire che due mondi separati potevano unirsi e diventare un fenomeno lifestyle. La musica, a me tanto cara, è diventata il mezzo di comunicazione. E oggi le persone che vedete lì, e forse i più giovani non ricorderanno, sono stato il primo e più importante gruppo hip hop della storia che ancora oggi influenzano continuamente le nuove generazioni. E sono in Run DMC. Uno di loro, oltretutto, durante un concerto prendeva la scarpa, l'alzava al cielo e diceva This is my superstar. E crearono addirittura una canzone su questo. Voi provate ad immaginare in quel momento storico come cambiò all'improvviso il modello di business dell'industria che producevano scarpe da tennis, quelle che io chiamo volgarmente scarpe da tennis. Poi la contaminazione non è solo questo, è design moda. Allora, l'auto che vedete qui è una BMW, è un'auto da corsa, è un'auto prestazionale o è un'opera d'arte? In realtà non è importante darci la risposta. Quello che è importante è capire che c'è qualcosa che ci piace, dove la contaminazione arriva anche fra il design e i prodotti di prestazione, prestazionali come un'auto da corsa. Così come oggi, vedete, la ricerca, il ritrovo della natura, la sostenibilità si contamina si contamina con il design, con il mondo dell'edilizia. Noi siamo continuamente avvolti da modelli di contaminazione, ma dietro questo c'è sempre una scintilla di creatività che aiuta e dà la direzione. Ed è una direzione inaspettata, non programmata. Ed è proprio questa la cosa bella. Io non amo andare nei treni, non amo usare i treni, li odio fortemente. Poi ho capito perché, nel percorso della mia vita ho capito perché odio ogni volta andare su un treno. Perché il treno ha due binari costanti, fissi, non esci mai. Invece io amo follemente i comportamenti divergenti, anche quando a volte creano dei problemi. E voglio dire, mia madre sa cosa vuol dire creare problemi. Io, Alenio, ho creati tanti proprio perché amo i comportamenti divergenti. Poi però, e questa è la parte, se vogliamo, un po' più attuale, a volte la creatività nasce anche da un fallimento. Credo che molti di voi abbiate riconosciuto la foto che è dietro alle mie spalle, Blockbuster. Fino a circa vent'anni fa un fenomeno assoluto. Tutti lo riconoscevano come un modello da imitare. Quanti video noleggi si sono creati in giro per il mondo in Italia. Io ricordo, io sono originario di Senigallia, solo a Senigallia ce ne erano una cittadina, 50.000 abitanti, ce ne saranno stati almeno 20. In realtà che cosa è successo? Perché Blockbuster è fallito? Perché non sono stati capaci di interpretare il cambiamento, il cambiamento del consumatore. Ora, perché parlo di fallimento? Noi l'abbiamo vissuto, anche noi come azienda, ma tante altre, quando il brand diventa protagonista assoluto della storia, dei modelli, dei costumi, dal punto di vista proprio del consumo, c'è un problema. Oggi non è più possibile. Ecco perché il consumatore è diventato il vero protagonista, non è più il brand. Il consumatore deve diventare è al centro, è il consumatore, quello che noi chiamiamo il creator, non a caso. È il consumatore che oggi definisce quali sono le regole del gioco. Il brand le asseconda, le guida quando può, cerca di, come dire, affiancare, ma nell'immagine che vedete qui sono i consumatori che definiscono e creano i modelli di oggi e di domani. Questo punto di vista da così semplice ad oggi sembra così semplice è stato totalmente disruptive nel mondo del lifestyle e della moda perché ha cambiato il punto di vista. Il consumatore ha scambiato il ruolo con i brand. Non devo, credo, dirvi chi è questa ragazza nell'immagine. Io non sono un grande fan per l'influencer. Oggi in Italia abbiamo più influencer che persone che lavorano realmente. Il punto è che oggi gli influencer o, diciamo una verità, i consumatori tracciano la riga. sono loro che guidano. Oggi i consumatori sono delle piccole piattaforme di comunicazione. Questo si è potuto sfruttare nel miglior modo possibile perché si è avuto il processo creativo di capire che il brand da solo non poteva più comunicare. Aveva bisogno di qualcun altro. Il consumatore è al centro e il consumatore oggi vuole essere parte delle risposte. Il problema della sostenibilità è un problema che conosciamo tutti. La storia delle microplastiche è un tema molto caldo. Ecco perché qui l'ingegno di capire che nel momento in cui il consumatore vuole essere al centro e vuole essere parte della soluzione è normale che oggi i brand in qualche modo dialogano e comunicano al consumatore attraverso dei processi di sostenibilità straordinari. Vi faccio un esempio. Noi, la nostra azienda ma lo stanno facendo tante altre produciamo oltre 5 milioni di scarpe all'anno prodotte con materiali plastici derivati dagli oceani. Questo io lo trovo straordinario la creatività a supporto della soluzione la soluzione che tutti noi dobbiamo in qualche modo raggiungere perché altrimenti moriremo. Non è più sostenibile il modo in cui oggi viviamo. Il consumatore vuole sentire al fianco qualcuno che racconta le storie come se lui le raccontasse. Questa è la chiave di volta. In più parliamo spesso di social network cosa c'è di creativo nei social network dicevamo prima degli influencer la realtà che cos'è un social network che cosa sono i social è un aggregato di persone ebbene qual è il più grande social network oggi esistente che tocchiamo con mano che viviamo è le città. Le città dovete sapere negli ultimi anni hanno guidato totalmente le politiche di investimento di grandi brand oggi non si investe più random si investe dove serve si investe dove c'è il consumatore che può influenzare gli altri consumatori quello che nel business viene chiamato l'effetto halo o l'effetto domino se io investo bene e lavoro bene a Milano sono sicuro che arrivo anche a Bolzano o la più probabilità se lavoro bene a New York o a Los Angeles o a Shanghai arrivo in tutto il resto del mondo questo ha cambiato ancora una volta la dinamica e la prospettiva perché poi vedete alla fine di tutto possiamo essere creativi possiamo essere ingegnosi la realtà che è al centro ci sono sempre le persone quei bambini sono creativi tanto quanto è stato Tesla così quanto tanto è stato Adidasler nel momento in cui inventò i tacchetti perché la creatività è gratis è uno dei pochi lussi oggi che è accessibile a chiunque è uno stato mentale è una questione di mindset anche perché se è vero che la bellezza salverà il mondo la creatività ci aiuterà a farlo meglio grazie 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 grazie